Cosa ne pensa del programma del mandorle in fiore? Mi pare che la linea dei patrimoni UNESCO sia una linea che stia veramente premiando e stia dando anche quell'idea di città che guarda al Mediterraneo, che guarda alla crescita culturale che è perfettamente in quella direzione di Agrigento 2020 che non è il punto di traguardo ma è un punto di partenza. Poi io immagino un mandorle in fiore che dia anche spazio a quella che è la parte folclorica per esempio quest'anno sì, però credo che nel prossimo futuro ci debba essere qualche sessione, dico io magari a ridosso o magari post, troviamo la soluzione per dare modo alla quantità di impegno vorrei dire folclorico che questa città esprime, quanti gruppi folcloristici esprimiamo nessuna parte della Sicilia è così, perché qui e non in altro posto c'è il mandorle in fiore c'è questa importante festa che nacque nel segno del folclore.